100.000 posti di lavoro nei prossimi 5 anni, questo l'annuncio shock del presidente della regione Luciano D'Alfonso questa mattina alla presentazione del bilancio dei primi sei mesi del suo governo, ma anche investimenti importanti, oltre 120 milioni per la Fondo Valle Sangro. Il governatore ha puntato molto sull'importanza dell'area dove sorge la Sevel. Importante anche la cura dimagrante per la pubblica amministrazione, i soldi da impiegare per la bonifica dei fiumi e i bacini idrici, ma soprattutto un lavoro importante da portare avanti per il rientro del piano sanitario. Ma sono stati 180 giorni tutto sommato di apprezzabile partenza. Adesso dobbiamo dare luogo alla fase 2. Noi in questi 180 giorni abbiamo all'attivo i seguenti risultati. La capacità di avere stabilito la priorità esclusiva della Fondo Valle Sangro per 120 milioni di euro per toglierci dalla condizione di invalidità che più volte Marchionne, la Fiat e il distretto industriale di Atessa ci hanno sottolineato come un grande limite, una grande invalidità del nostro sistema industriale. Lì si produce la più parte del pile dell'Abruzzo e lì mancava la viabilità. Noi abbiamo detto quella è la priorità numero uno e lo abbiamo detto non con le letterine ma con le di libere di giunta. Adesso dobbiamo fare un altro grande lavoro che è il completamento dell'impegno per il risanamento dei conti della sanità e la ricollocazione in una chiave di coesione e di competizione della nostra offerta di salute. Ce la faremo. Entro i prossimi 120 giorni dovremmo concludere il lavoro di attuazione del piano di rientro. Dobbiamo territorializzare la sanità, aprire case della salute dove questo ci viene imposto anche da un livello di performance atteso sia dai pazienti, dai cittadini ma anche dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sempre in questi 180 giorni abbiamo dato luogo a 171 milioni di euro per i depuratori dell'Abruzzo che devono aiutare i fiumi ad essere meno malati e meno portatori di tumore verso il mare. Così come abbiamo anche determinato 70 milioni di euro per gli schemi idrici per aumentare la capacità di attingimento idrico per le popolazioni, i comuni e gli alberghi perché in Abruzzo ancora d'estate manca l'acqua e fare in modo che in Abruzzo si possa investire più facilmente che in altrove. Ci assumeremo su questo responsabilità senza limite. Saremo spregiudicati contro i problemi della pubblica amministrazione per rendere facile la vita delle imprese. Noi dobbiamo produrre nell'arco dei cinque anni centomila occasioni di lavoro. Nel prossimo anno noi abbiamo l'obiettivo di creare le condizioni per un umore positivo di chi deve investire. La partita, come dice Paolo Savona, prima di tutti gli altri in Italia, è ricreare un umore positivo nei territori affinché chiunque si senta nel diritto e nella condizione di merito di poter investire.